Ciao amici di Italia Top Games, io penso ancora alla partita avversa con il Tottenham è stata veramente una roba allucinante comunque vediamo di continuare la nostra campagna preseason volume 3 e di vincere anche questa allora subito subito De Bruyne dentro al posto di Gundogan Rodri al posto di Fernandinho anche io ho la porta, anche io ho la porta, lascio la key Ederson, Walker, Walker, Cancelo, no preferisco Cancelo oh che bello, quante frecce in su, va bene tutto così Foden, 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 Gabriel Jesus, Grealish, Grealish boh mi convince più Foden mettiamo dentro Foden, bene così, poi magari facciamo qualche cambio via laterali e ci siamo contro il Liverpool prima volta in questa campagna contro il Liverpool giocato contro il Manchester United, il Tottenham per l'appunto e nell'ultima partita era, era, era contro ah una squadra minore diciamo, il Barley mi sembra, una cosa del genere va bene, quarta partita della campagna e vediamo come va il film ungherese fondamentale o forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà e invece questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza mi sa che questo giocatore non c'è la valida è già cominciata senza pietà, come ho detto prova a darla profonda Sterling, un grande momento di calcio un gol magnifico ed è subito spettacolo che gol aperto le marcature con una rete importante l'hanno cercata e voluta fortemente ma c'è ancora tanto da giocare devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio eh vabbè era proprio sul filo del fuorigioco ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto un gol nei primi minuti forse un po' inatteso da entrambe le parti si libera la grande la porta era accessibile ragazzi l'avversario ha abbonato la partita è finita qui molto rapidamente molto rapido vabbè l'importante era vincere al prossimo video ciao